5, 6, 3, prendetene uno e mettetelo davanti a 6 piedi oppure quello lì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Vabbè ma 6, voi li dovete adattare. Questo è un altro esercizio simpatico che si può fare. Praticamente tu fai attacco, arrivi, poi rimani con questa gamba con i saltelli e poi scendi sull'altro. Questo è abito a capire che quando si recupera la seconda gamba deve stare avanti per correre bene. E quindi adesso non fai più niente? Forza dai provate. Grazie. Forza dai provate. Però recuperata, sì. Mi hanno detto che era minima, però visto che è comunque... Forza provate. C'è schiacciamento. No no, dritta la gamba davanti, che fai? Si attacca diritta, bella. Adesso è dritta, bravo. Ok, va bene. Ok, va bene. Non vabbè attacca lo stato, vabbè lo sbrano.